Ciao dalla Terra del Fuoco, stiamo andando ad Ushuaia, adesso farò un pezzo di strada con Louise che arriva dal Canada, è arrivata fino a qua sotto in Patagonia, ha fatto quindi tutto il continente americano, con 62 anni e la sua BMW dell'83. La Azulita, che si chiama. Che sono molto contenta di trovare a Antonio e a Silvia, che è un molto buon regalo per il mio coraggio. Ok, vamo! Ciao! 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 Grazie per la visione